Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa bellissima maglia del Paris Saint-Germain. Questa è la quarta in edizione fan. Vi ricordo che l'edizione fan è quella un po' più comoda, confortevole, un po' più economica, dedicata ai tifosi. Grazie a tutti. La maglia non è niente male, richiama una delle maglie del Paris Saint-Germain, mi ricordo se la secondo o la terza, mi parla terza, però devo dire che in realtà io preferisco molto di più la terza. Qualità comunque ottima, il costo lo vedete qui sopra, veramente molto vantaggioso. Se volete maggiori dettagli e volete sapere dove ordinare la maglia, trovate i riferimenti qua sotto, in descrizione. Andate a vedere sul sito perché insieme a questa maglia ne troverete tante altre pronte ad attendere. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Prima però non mi dimenticherò mai di dirvi, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima. Grazie a tutti.